Ciao a tutti e ben ritrovati alla Masterclass di SQL Server in questa lezione andiamo a concludere l'installazione e la configurazione del nostro ambiente con l'installazione del driver ODBC quindi lo installeremo e poi andremo a configurarlo ricordo che è un connettore che permette di collegarci sarà il nostro connettore che utilizzeremo in Excel piuttosto che in Access o con altri tool che vorrete andare ad utilizzare allora prima di tutto l'installazione noi avevamo scaricato questo driver qua dal sito della Microsoft però mi sono reso conto andando nel pannello di controllo andando su programmi e funzionalità che praticamente vedete qui il driver ODBC era già stato installato quindi finalmente oltre al driver OLEDB che vedete appena sotto con l'installazione di SQL Server ora nativamente viene installato anche l'ultimo driver ODBC disponibile in rete quindi diciamo che l'installazione non è più necessario farla se per qualche motivo questo driver dovesse smettere di funzionare e dovesse darvi per qualche motivo errore 25-23 ve lo segnalo immediatamente perché è un po' da uscire pazzi se non sapete come fare non riuscirete mai a disinstallare ipotizziamo che adesso voi volete disinstallarlo potrebbe essere che vada in errore e non vi permette più di disinstallare questo driver né tanto meno di aggiornarlo o di correggere eventuali problemi che vi dà questo driver allora l'unico modo per andarne fuori è scrivere praticamente cmd qui sulla ricerca e il prompt dei comandi facciamo tasto destro esegui come amministratore questa è una cosa importante quindi apriamo il prompt e siamo dentro come amministratori vedete qui in cima c'è scritto che siamo dentro come amministratori poi cosa facciamo per andare ad aggiornarlo andarci sopra e sistemarlo lo prendiamo adesso io lo metto nel disco D per comodità ok lo metto qua e torno sul mio prompt poi qui faccio D due punti che è il mio disco dove ho messo il file oppure se sono in C vado nel percorso con ad esempio se torno in C ok sono qua faccio cd punto punto vado indietro nella cartella cd slash vado indietro del tutto poi potrei fare cd faccio un dir e vedo cosa c'è dentro la cartella faccio cd temp ad esempio e così entro nella cartella finché trovo il file comunque eventualmente mettetelo nel disco C o nel disco D ok così di due punti arrivate qua poi cosa fate non fate altro essendo che siete come amministratori non fate altro che eseguirlo msodbcsql.msi e qui premete invio partirà l'installazione o l'aggiornamento e lui andrà sopra all'installazione corrotta e andrà a sistemarvi tutto quanto quindi mi raccomando questo è il modo per andarne fuori se il driver per qualche motivo si dovesse scassare ok adesso io non lo lancio perché comunque è installato mi era successo anche a me di romperlo ma l'ho messo a posto con questo sistema qua ok capita questa cosa qua del driver dbc adesso che è installato cosa ce ne facciamo perché non è un programma come il management studio che apriamo dobbiamo andare sul sui driver dbc allora possiamo entrare nel pannello di controllo andare su strumenti di amministrazione e qui troviamo il driver dbc a 32 bit oppure a 64 bit questa cosa qui non è che si è installata con il driver che abbiamo messo noi no questo è solo uno strumento che da windows per poter pilotare n tipologie di driver noi abbiamo installato il driver dbc quindi dentro qua potremo configurare il driver dbc possiamo anche cercarlo da qui scriviamo odbc ok è valido un po' per tutti i sistemi operativi anche le versioni server e qui troviamo anche qua le due tipologie allora se non sapete se fare 64 32 la risposta è data dal bit che sono posti sul vostro sistema operativo non sapete quanti bit ha il vostro sistema operativo aprite esplore risorse e andate su gestione computer questo computer tasto destro proprietà qui vi da il sistema operativo che avete io ho windows 10 pro e poi vi dice tipo di sistema sistema operativo a 64 bit ok è il processore basato su x64 perfetto a me va benissimo lavorare sul sistema 64 sarebbe scorretto se andassi a configurare il mio driver sull'ambiente a 32 bit funzionerebbe lo stesso ma non ha senso perché il mio sistema è a 64 bit e tra l'altro è anche più potente se fosse stato 32 non potrei utilizzare il driver a 64 bit anzi se avessi avuto un sistema a 32 bit probabilmente quando scrivate odbc compariva solo il driver a 32 cioè lo strumento a 32 ad ogni modo adesso noi apriamo questa cosa qua allora chiudiamo un po' di cose qui che cosa c'è? compare una finestra letta amministrazione di origine dati odbc qui ci sono delle schede le due schede che ci interessano sono dsn di tente e dns e dsn di sistema allora vedete qui c'è aggiungi qui ci sono già dei driver per chi ho microsoft 365 installato quindi quando ho installato microsoft 365 sono installati i driver di excel e i driver di access in automatico e mi ha creato anche i connettori in automatico mi ha creato queste origine dati quando noi abbiamo installato i driver odbc per il sequel non si è creato niente in automatico però se andiamo sulla scheda driver vedete che troviamo ecco questi sono i driver questi quattro driver sono stati installati dal sequel quando lo abbiamo installato allora come vedete qui sono dei driver che tutti sono tutti i driver origine dati che ci permettono di collegarsi al sequel server sono similari ad esempio una volta io utilizzavo questo qua l'11 vedete sono delle librerie differenti dai test che ho fatto li ho provati un po' tutti il driver odbc secondo me è il più veloce quindi anche perché se vediamo le date di rilascio vedete la data il driver odbc è quello più nuovo è 13 7 2020 invece gli altri li vediamo al 19 3 2019 qui vedete 13 7 2020 potrebbe essere che voi vedete 1 1 2020 è perché io ho aggiornato il driver come vi ho fatto vedere prima tramite il prompt del dos quindi ho preso appunto questo file qua che abbiamo scaricato tramite il cmd che abbiamo visto l'ho aperto come amministratore e poi ho lanciato questo msi così ho il driver più aggiornato possibile se dovete aggiornare in futuro fate la stessa identica operazione ok capito che qui abbiamo i driver su dsn di sistema se io vado a creare faccio aggiungi qua vedetemi dai driver per dopo andare a configurarli andrei a creare un driver che funziona esclusivamente con la mia utenza quindi se nel mio computer accede un altro utente con un'utenza differente non troverà il driver che io sono andato a configurare in questa scheda qua funzionerà solo per me questo driver se io voglio fare un driver comune a tutti devo andare a crearlo su dsn di sistema quindi se io vado a creare qui il driver un altro utente si collega al mio computer anche quell'utente anche se non ha fatto nessun tipo di configurazione troverà disponibile il driver quando andrà a richiamarlo su excel piuttosto che su access perché vi faccio capire anche questo voi potreste dire beh potrei lavorare qui o qui non cambia niente perché lavoro sul mio computer sul mio computer ci lavoro io ora ipotizziamo che siete in un ambiente di lavoro magari dovete configurare una virtual machine su cloud magari sul cloud di azure di microsoft e lì date magari una macchina agli utenti per potersi collegare e lavorare tutto via cloud immaginiamo se abbiamo un sequel via cloud quindi che probabilmente è posto su in olanda se voi con il vostro computer e la vostra linea andate a connettervi ai dati che sono in olanda cioè dovete fare un traffico internet verso i server olandesi della microsoft perché la microsoft il cloud ce l'ha lassù quindi non è molto efficiente questo canale qua è molto più efficiente avere anche la virtual machine su cloud quindi se avete la virtual machine su cloud le due macchine sono vicine e comunicheranno sicuramente molto più veloce rispetto a voi ad utilizzare magari la vostra connessione internet per andare a leggere i dati che sono posti in cloud ma questa è una piccola finestra a parte in ogni caso abituatevi a farli su dsn di sistema così sono disponibili per tutti ok andiamo alla configurazione del driver perdonate un po' di teoria mi sono un po' di divagato andiamo sul bottone aggiungi e qui appunto troviamo tutti i driver abbiamo detto che selezioniamo odbc driver 17 for sequel server fine ok lo configuriamo qua gli diamo un nome allora lo chiamiamo ad esempio potrei chiamarlo sequel server generale ok questo sarà un driver che mi permette di accedere al sequel e leggere tutti i database che sono nel suo sequel e qui ho messo generale perché con access microsoft access se nel sequel server avete 10 database dovete fare un driver per ogni singolo database che sta all'interno del sequel server perché access non riesce ad utilizzare il driver anche gli altri tre sono identici non riesce ad utilizzare il driver e vedere tutti i database nella configurazione adesso che vedremo nel driver a un certo punto verrà fuori un'opzione che ci permette di dire qual è il database di partenza ok quindi se io non metto niente access non vedrà niente quindi se metto un database invece riuscirò a vedere il contenuto di quel database invece se utilizzerò power query che dopo ve lo faccio vedere e utilizzerò un driver qualsiasi che ho creato perché magari per abbiamo 10 database per access facciamo 10 driver excel se ne frega ne utilizza uno e riesce comunque a vedere tutti i database è fatto un po' meglio rispetto a microsoft access ad ogni modo qui cosa dobbiamo scrivere allora qui se volete mettete una descrizione opzionale qui dobbiamo dare il puntamento dell'istanza che è sempre dato da nome computer slash sql express nel caso della nostra versione quindi come facciamo a recuperare questa cosa? apriamo il management studio che abbiamo installato la scorsa volta così lui ci proporrà già l'indirizzo in modo automatico senza che andiamo a cercarlo eccolo qua vedete abbiamo il nome del computer slash sql express che è quello che SQL ha installato cioè SQL ha installato un'istanza che si chiama così sql express ok quindi per raggiungerla è sempre verso una destinazione un computer quale quello che stiamo usando sql express se siamo in rete in dominio funzionerà ugualmente il connettore perché appunto diamo sempre riferimento del computer al quale noi ci vogliamo collegare e ci scriviamo anche il nome dell'istanza ok preso questo valore qua lo copiamo al management studio non ci serve più e lo incolliamo qui così abbiamo il puntamento della nostra istanza facciamo avanti e per magia va avanti qui dobbiamo definire come accediamo con questo driver a SQL Server allora di default vi dico subito lasciate l'autentificazione integrata di Windows che è la cosa migliore perché quando io utilizzerò questo driver utilizzerò sempre le credenziali di Windows per connettermi a SQL Server questo vale più per Microsoft Access per Excel in realtà questo pannello qua è possibile bypassarlo attraverso la sua interfaccia poi vi faccio vedere molto velocemente questa cosa qua ad ogni modo lasciamo di default questa cosa qua se io mettessi l'autentificazione SQL tramite ID e password di accesso immessi dall'utente significa che io qui andrei a mettere un utente nativo quindi un utente creato di stanza dentro al SQL Server che non è un utente Windows non è un utente di dominio è proprio un utente che funziona solo per SQL Server quindi potrei mettere qua ad esempio un utente che ha creato una password questa cosa la vediamo poi nelle lezioni in più avanti come funziona la gestione delle utenze e qui però non è una bella cosa fare questa cosa qua perché magari poi questi driver magari questo driver potrebbe essere utilizzato da 10 persone e 10 persone farebbero un accesso sempre con lo stesso utente voi non identifichereste più chi è che ha fatto l'accesso o chi ha fatto cosa quindi con le credenziali Windows a mio avviso è sempre il miglior sistema per trazzare tutto nel migliore dei modi quindi lasciamo così com'è premiamo avanti qui possiamo scegliere se fare un driver di lettura e scrittura oppure solo lettura se mettiamo lettura l'utente che utilizzerà questo driver potrà solo leggere da SQL ma questo è indifferente lasciate pure sempre RedWrite RedWrite perché poi nel SQL andremo a gestire nel dettaglio tutti i permessi sul singolo campo anche della singola tabella se vogliamo arrivare fino là e poi se utilizzate access dovete spuntare questa cosa qua e fare un driver che punta al database che vorrete andare poi a leggere all'interno del SQL ad esempio se metto model e utilizzerò questo driver poi con Microsoft Access leggerò solo le tabelle che sono dentro al database model se ci metto un altro database ad esempio tempdb vedrò solo le tabelle di tempdb se non flaggo niente adesso non ricordo in teoria dovrebbe proporre quello di default che è il master se non ricordo male da ogni modo con access non potete leggerli tutti adesso noi utilizzeremo Excel per lavorare quindi va benissimo per ora lasciarlo anche sfleggato in modo che comunque vediamo tutto qua premiamo avanti quello che esce poi su questa schermata lasciamolo così com'è che va benissimo sono opzioni standard non serve andare a toccarle facciamo fine poi verifichiamo che tutto funzioni verifica origine dati ok qua mi dice verifica completata se per qualche motivo vi da problema che fallisce ok verificate due cose prima cosa andate nel pannello di controllo andate su strumenti di amministrazione andate su servizi e qui sul servizio del SQL che vi mostravano nelle precedenti lezioni vedete se controllate che il SQL sia in esecuzione se è in esecuzione andiamo a vedere un'altra cosa se non è in esecuzione è per questo motivo che è fallito perché quando fate test lui fa un accesso al nostro SQL ok quindi se non ci riesce probabilmente magari è perché questo servizio è giù per qualche motivo di default quando avviate Windows comunque di solito si avvia in automatico a meno che non abbiate cambiato le opzioni se invece fallisce ancora probabilmente avete un problema sui driver quindi in quel caso reinstallate il driver utilizzando il prompt dei comandi di Windows come vi ho spiegato prima quindi cmd tasto destro esegui come amministratore e lì lanciate l'MSI che avete installato del driver così andrete a fare un'installazione pulita e sicuramente andrete a coprire tutti gli eventuali errori che ci stanno dietro ok arrivati a verifica completa facciamo ok ok e abbiamo creato il driver che qui è comparso il nostro driver ora concludiamo questa lezione andando ad utilizzare questo connettore che abbiamo appena creato quindi facciamo ok andiamo nel nostro Excel ad esempio facciamo dal menu dati recupera dati andiamo da altre origini e qui troviamo il connettore ODBC vedete quindi noi clicchiamo su ODBC qui si presenterà una finestrina con tutti i driver che ci sono all'interno del nostro della nostra origine dati ODBC quindi vedete ci sono i due che vi mostravo prima e sono installati come Office e c'è quello che noi adesso abbiamo installato quindi SQL Server Generale quando clicchiamo qua diamo l'ok ecco che per magia mi mostra i database che sono dentro al SQL Server adesso apro il manager in studio per farvi vedere che effettivamente io sto vedendo le stesse identiche cose ok faccio connetti vedete ecco qua vedete apro i database e qui mi trova il database di sistema mi trova il master il model il team DB il model non me lo vede non so perché probabilmente è un database di sistema che non può essere letto tramite ODBC ma ad ogni modo qui mi trovo appunto i database e poi navigando tra le varie cartelle vedete posso poi andare a trovare le tabelle vedete sono le stesse identiche tabelle che vedete di qua selezionandone una e poi facendo trasforma dati ad esempio importiamo quella tabella adesso ne ho presa una vuota la importiamo all'interno del nostro ambiente quindi noi adesso abbiamo fatto una lettura da SQL e ci importiamo i dati in Excel con il nostro bel connettore che siamo andati a crearci perfetto direi che con questa lezione abbiamo visto un po' tutto anche i possibili problemi che possono sorgere sull'utilizzo e l'installazione del driver come sempre se la lezione è stata di vostro gradimento lasciate un bel like se non siete iscritti iscrivetevi col bottone rosso che sta qua sotto e ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao